Forse era l'Inter a essersi dimenticata di lui. Con un tocco beffardo di nuca, Boninsegna ricorda al club nero-azzurro l'errore fatto alcuni anni prima. E con quel gol porta il Cagliari alla vittoria. È la prima volta in tutta la sua storia che il Cagliari riesce a battere l'Inter. Tutto il popolo sardo è in visibilio. Ma quel gol non basta. Non può bastare a Boninsegna per riconquistare la nazionale. Anche perché in quel momento c'è un giovane che attirra l'attenzione del Cagliari.